Dudu! Uè, c'è il fufetto! Quanto vuoi? Ma non è troviso a sconvolgere! Fufetta, calma, stai tutta e cittata! Sì, perché è bambata, Dudu! Tenga è bambata! Villa Smeralda è stata venduta, e sai a chi? A Aurelia della Laurin Miss! Stata zitta tu! Di più, se ne ha accattato John Allen, il re della borsa di New York! Azza, non miliardari di Wall Street! Beh, e io lo conosco benissimo, perché la stagione passata l'ha già venduta una mappata di gioielli! E' buon per te! C'è chi questo paperone? Venga i gioielli! Asce, ma è rurma, rurma, rurma! Ma non capisci! L'americano si deve arredare il villone! E' a Caprichia che tratta mobili antichi, tappeti, quadri, argenterie e bombolieri! A regina! Eh, si è sconata regina, capito? Io ti presento e ti dico che tu sei il decoratore più ino di Capri, tu gli arredi il villone e così ti sei fatto la stagione! Pupetta, che bello regalo che mi fai! Grazie! Grazie, non cazzo! Eh! Eh! Io voglio 50% che le spenne paperone cadde in te, capito? Ma che stai dicendo il 50%? È ricavato mio! Eh, vabbè, facciamo il 30! No, 25! Ma sei tremenda! Eh, succo da ne tenere! E io la tua d'alma, tante! Da! Bopo! Sì, tutto!